e l'altro adesso gli andiamo a gonfiare gira 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 non portare palla facciamoci vedere gira gira d'altra parte giriamo gira gira non buttarla aumenta 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 la doppia la doppia la doppia aiuta 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 con il pro con legno come hanno fatto loro con il pro con legno con il pro con legno vieni vieni vai chi sei più veloce diavolo da fare il numero sono no 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 mette laggiù Oh! Tira! Emma! Come devi andare? Ma, se questo è un posto avanti... Cosa è un drogletta? Un drogletta. Cosa è? Cosa è? Dalla scuola! Gira, gioca, 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 gioca! Gioca, gioca, non portarla! Non portarla! Parto! Oh no! No, no! Salazzo. Bella! Ficcavo da dentro, entra! Esci, Marino! No! Donà! Donà! Il calcio! Donà! Donà! C'è il mamo! Se gli dai il giro e non lo prendi più Andrea! Che vizio! Taccalo! Taccalo! Bravo! Donà! Dai bravo! Dai! 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 Secca sta fallo! A posto! Vieni! Vieni! Chi deve entrare? Salve! Vieni! Contro! Ce l'hai? Vai buona! Sei in mezzo al 2! Guarda! Riprendono! Non chiudere! Non chiudere! Calma! 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 Fr savage! E Ada! Che è uno contro quattro! Guarda line di produttore! Vieni lui! let own duota, vieni! Davanti! Tive bronze! come rimbalzi si batte! si batte! giocalo! davanti a te, Giaffra vieni qui, in Italia dai Momo, accena, accena accena, accena tu Angelo incontro, vai dentro Angelo arbitro vieni Matteo scura buona Massa, bravo bravo Marco bravo Gianlu, bravissimo dai dai, giusto, giusto gioca, gira, gira ce l'hai vicino ce l'hai vicino stai su Gabri stai su arbitro bravo raga, niente decisioni vedete la parola, attacchiamola oh, oh cos'è oh se l'hai vicino se l'hai vicino da lui dai, dai dai dai, dai dai, dai dai, dai dai, dai entra 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 dai 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 ok un prima è vecchissimo dai 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 Gira che ci sei! Salah vieni qua Salah! Bravo Salah! Salah ti metto a destra! La posso di tromba! Sì sì sì! Vamo! Vai a destra! Ardu! Qua! Bravo Fah! Bravo Fah! Vieni! 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 Calma Fede! Calma! Calma Fede! Stai solo! Attaccati per far calma! Calcature! Calcature! Guarda! Ancora! 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 Metti in mezzo! Guarda l'uomo! Buono! 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 Andrea! Angelo! Non guardare il pallone! Guarda l'uomo! Rettino hai segnato tutto! Andrea! non guardare il pallone guarda dove va l'uomo bravo Franci angelo convinto a porto calcio alto testa ritorna angelo bella buona bravo vieni vieni Marco chiudi gioca gioca fatti vedere angelo siete in due in due gira sta palla angelo porco di quel giuda falla arbitro angelo scarica sta palla vieni angelo arbitro vieni angelo vieni scosso vieni scosso che numero è scosso il 16 vabbè ma te vabbè sì ma metto di mezzo bravo 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 un po' d'acqua arrivo oh prese solo stacca gira 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 ardu sono sotto la serie lo fanno a battere l'altra è più alto con i due ancora facciamo tutte e due 10 uomo 7 andrea sei uno contro uno non devi uscire al cazzo capito andrea oh sei uno contro uno non devi uscire devi correggiar invece di la metterla e caggirando bene e l'altro è con anni grazie 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 ragazza che mi è piaciuto il mercato, grazie che impegno, poi la testa bassa non non palla, non rompe, fa bene la voce, hai tre attaccanti bravi, dai 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 Simo, tocca la Simo, tocca la Simo, tocca la Simo, è un vizio vecchio, sai? bravo Salah, buona buona vittoria, Salah, oh, Salah, Ardu, in linea, in linea, in linea, in linea ce l'hai? dai, ce l'hai? vette, 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 ce l'hai? oh e che l'hai dato? scorso se tu guardi lui ha portato via l'uomo è entrato dentro qua in mezzo guarda Ardu siete tu e lui Davide si deve legare i lacci Davide faccio sempre movimento movimento voli non è venuto manca a vedere o è fuori tocchiamo, attaccalo bravo, bravo Tara sei meglio di tuo padre e lo so però ce l'hai, ce l'hai oh questo foggia ma vinceva vai parto ora meglio scorso meglio, meglio 1-2, fate 1-2 1-2 dai, 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 dai vado torna, torna dietro bravo, va bene bravo Fra bravissimo largo Stavar, largo Stavar va bene va bene surra piano ma surra ma che cos'è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ci sono dei biscotti se gliene vuoi dare un po' 5 minuti, 4 minuti mi chiamano mi chiamano eh? è andato con l'abbraccio qui ti fanno c***o da parte come pare bello fuori pensavo ha spezzato bene non so perché mamma non si fa la doccia e dobbiamo parlarne di questa cosa non so, della religione fa buco è timido taglio, 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 taglio eh, l'ha caricato, l'ha caricato va bene, dai oh, oh Gabri, Gabri sei andato col corpo in giro però se lui prende parla non aspettare eh, basso corpo il laccio il laccio il laccio, dà Davi il laccio come fai a fare un stop così Davide 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 metti giù sta palla hai tutto il testo Andre largo, 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 largo largo, largo Andre no Matteo guarda che c'è raffreddato uno c'è raffreddato eh, non più eh, il cognome c'è raffreddato minchia Matteo ma perché devi far cazzate minchia porca miseria ma si può fare una parata così Mauri, per il loro gol devo sapere puttana di Ea Matteo ma vai così oh capito devi prendere sempre quello dal cazzo mai la oltre gli fai il risultato non c'è raffreddato 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 il loro 16 laggiù quello col codino sali 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 alzati 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 brava Lazzarini speglia surra è il lato cieco bravo qui la diagonale è il lato cieco qui la diagonale non batte ah sui laterali c'è da fare una parola? è una roba senza senso bravo bravo Gabri l'ho ripreso male l'ho ripreso male l'ho ripreso male bravo scosso bravo scosso cavi meglio è finita eh bravo Gianfra bravo 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 Ardu, 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 Fede, Fede, Federico, Fede, Fede. Finito, un film.